Gossipitavip, se lo sussurra, lo svegliamo. Re Carlo ha preso una decisione controversa. Ha licenziato le guardie del corpo che garantivano la sicurezza attorno al Royal Lodge, la residenza dove vive il principe Andrea con l'ex moglie Sarah Ferguson. Questa mossa, riportata da The Sun, sembra mirata a costringere il fratello a lasciare la lussuosa dimora di 30 stanze, che occupa da oltre 20 anni. Andrea, considerato la pecora nera della famiglia dopo lo scandalo Epstein, non ha più diritto alla protezione pubblica, e la sicurezza privata, fino ad ora finanziata dal re, costava 3 milioni di sterline l'anno. Sebbene Re Carlo non intenda lasciarlo senza casa, ha proposto al fratello di trasferirsi a Fogmore Cottage, ex residenza di Harry e Meghan, ma molto più piccola del Royal Lodge. Andrea, però, non è disposto ad accettare il trasferimento, rischiando così di restare al Royal Lodge senza protezione.